Mancato pagamento degli stipendi del mese di maggio ai lavoratori dell'ospedale Don Nuva di Potenza. I consiglieri regionali Rosa e Pici hanno chiesto di conoscere le cause e sanare l'incresciosa situazione. Il Don Nuva, ricordano i due consiglieri, offre servizi importantissimi per il settore socio-assistenziale che richiedono professionalità qualificate. I due esponenti del PDL hanno chiesto inoltre informazioni sulla convenzione tra il servizio sanitario regionale e il centro e quale sia la situazione dei compensi maturati nell'anno 2010-2011 in favore dell'ente ecclesiastico Casa della Divina Providenza di Bisceglie. A segnalare la questione, come affermano i consiglieri regionali, sono stati i rappresentanti dell'UGL che hanno esposto l'accaduto anche all'assessore alla salute Martorano. Si trattano, concluse i consiglieri, di una difficoltà ricorrente. Infatti, nell'incontro dello scorso febbraio presso la regione Basilicata e alla presenza dei dirigenti regionali della dirigenza della Casa della Divina Providenza, erano state rilasciate rassicurazioni sulla puntualità dei pagamenti degli stipendi. Nonostante le buone intenzioni, però, la mancata puntualità continua a persistere.